Ciao Chu Ciao Chu, nono secolo d.C., maestro zen cinese, trapassato all'età di 120 anni dopo un'estenuante ricerca di uno stato mentale, privo di pensieri, per ottenere l'illuminazione. Celebri i suoi koan, brevi racconti o sentenze con cui un maestro zen favorisce il risveglio spirituale dei discepoli. Il grande maestro Do-Gen Zen-ni definì Ciao Chu il vecchio Buddha. Commento L'evoluzione non si cerca, ma si scopre senza sforzo.